Arriva una boccata d'ossigeno per i lavoratori in difficoltà che lavorano nel friulio occidentale nel settore terziario. La provincia di Pordenone ha infatti stanziato 30.000 euro per i casse integrati del commercio, turismo e servizi. Le risorse sono state girate all'Ebiter, ente che rappresenta il terziario, con un accordo firmato dai rappresentanti locali Giuseppe Bortolussi e Mauro Agricola e dal presidente della provincia Alessandro Ciriani. In cosa consiste questo aiuto provinciale al settore commercio? Significa contribuire all'integrazione salariale di lavoratori del settore terziario, quindi soprattutto del commercio e dei servizi, che in questo momento non hanno un lavoro. Parliamo spesso di grandi imprese che entrano in crisi, che magari fanno notizie sui giornali. Esiste però anche uno stilicidio di piccole imprese, quindi di dipendenti di aziende che non hanno la stessa voce grossa, non possono avere lo stesso potere contrattuale, che si trovano però in difficoltà. Il nostro compito è intervenire a sostegno anche di questi lavoratori, a cui diamo una mano dal punto di vista economico. Il sostegno provinciale, ha rimarcato Ciriani, viene rinnovato nel tempo e si estenderà anche al comparto dell'artigianato. Mi piace sottolineare che non è un intervento una tantum, ormai sono anni che va avanti, e così come abbiamo stipulato un accordo con l'Ebiter, quindi l'ente bilaterale del terziario, altrettanto faremo, come abbiamo fatto anche nel passato, con l'EbArt, quindi con l'ente bilaterale dell'artigianato. Tutte, ripeto, aziende che purtroppo sono piccole, ma che soffrono come le altre di questa crisi.